Francesco Starace, amministratore delegato di Enel per affari italiani. Oggi al Politecnico di Milano si parla di Open Innovation e le chiedo che cos'è l'Open Innovation e la tecnologia più in generale per un gruppo come Enel. Open Innovation è un concetto che è stato teorizzato da Cesbro 10 anni fa circa. Per noi significa innovazione aperta, ovvero proporre problemi alla soluzione di tutti. Quindi uscire con le difficoltà che abbiamo, con le domande a cui non troviamo risposta le cose che vorremmo migliorare e cercare aiuto fuori da noi. In questo dare quindi alle persone che ci danno una risposta e ci danno delle soluzioni la possibilità poi di scalare la loro idea in dimensioni molto grandi che non sono solo le nostre ma proprio perché è aperta anche i nostri concorrenti perché noi. E questo è in pochissime parole il concetto di Open Innovation. L'ecosistema delle start-up italiano che non è mai stato particolarmente florido invece adesso sta crescendo secondo lei? In realtà sì, sta crescendo perché anche se non lo sappiamo l'Italia è un paese che ha un'enorme capacità di soluzioni di migliori. Forse perché ne abbiamo tanti siamo creativi a provare soluzioni. E una scarsa capacità di metterle a fattor comune, mettere le soluzioni a fattor comune. Quindi il fatto che abbiamo proposto proprio una piattaforma di innovazione si chiama openinnovability.enel.com ha creato le premesse per un'aggregazione di soluzioni e quindi anche combinazioni originali di innovazione. C'è un enorme potenziale in Italia, lo possiamo tranquillamente dire. Grazie mille! Ciao!